Buonasera a tutti, mi chiamo Salvatore Aranzulla, ho 27 anni e oggi vi racconterò i passi che mi hanno portato a diventare un divulgatore informatico e un imprenditore digitale. La mia storia nasce in un piccolissimo paese della Sicilia, si chiama Mirabella in Baccari, è un paese di mille abitanti, un po' come le persone che sono qui oggi in questo teatro, un paese minuscolo nel cuore della Sicilia. Lì all'età di 10 anni riuscì a convincere i miei genitori a comprarmi il primo computer. Mio cugino Giuseppe mi prendeva sempre in giro perché lui aveva un computer, mi diceva guarda io ho un computer, tu non lo avrai mai, i tuoi genitori non te lo compreranno mai, fino a che ebbi un'idea. Portare i miei genitori in un negozio di informatica in un paesino vicino, aggrappare il primo computer che vedi, incominciare a piangere, a strillare e costrinse i miei genitori a comprarmi un computer. Questo fu l'inizio della mia storia. Tornavamo a casa e casavamo questo oggetto, né io i miei genitori sapevamo cosa farne, sapevamo come utilizzarlo, era un oggetto che stava lì, che mi incuriosiva, era un qualcosa di nuovo. Io nel frattempo avevo 10 anni, andavo a scuola, quindi tornavo a casa, facevo i miei compiti e la sera premevo il bottone, accettevo il computer e incominciavo a smanettare. Incominciavo a vedere come utilizzarlo, a come risolvere i problemi che incontravo giorno dopo giorno. Nel frattempo anche i miei amici incominciarono ad avere i loro primi computer e incominciarono i sequestri di persona di Salvatore Nanzul. Avevano un problema, venivano a prendermi a casa con la forza, mi portavano come un pacco a casa loro chiedendomi salvo, sistemami questo problema. E mi resi coso subito di un qualcosa. Più persone presentavano lo stesso problema, più amici mi ponevano la stessa domanda. Da qui l'idea di risolvere il problema solamente ad un mio amico, di scrivere la soluzione all'interno di un documento Word, stamparla e darla agli altri, diventare uno spacciatore di soluzioni manuali tra i miei amici a scuola. Distribuivo i compiti in classe, ero bravo, ma distribuivo anche le soluzioni per risolvere i problemi con l'informatica. Il passo chiave è stato all'età di 12 anni, quando creai Aranzulla.it. Aranzulla.it nasceva come un sito amatoriale, un sito nel quale pubblicare quei documenti Word con le soluzioni che davo ai miei amici. Era gestito in maniera amatoriale. Immaginate un ragazzino di 12 anni che ha accesso ad internet e che è da un piccolissimo paese della Sicilia, pubblica dei contenuti e questi contenuti li mette su internet. Figuratevi che non avevo la più pallida idea di chi leggesse questi contenuti. Fino a quando ebbe un'idea nel 2007, inserire in pagina un codice per vedere quante persone leggevano i miei contenuti. Rimasi a bocca aperta. 300.000 persone al mese consultavano il mio sito internet per risolvere i loro problemi. Un qualcosa che mi lasciò esterefatto. 300.000 italiani consultavano le istruzioni scritte da me nel tempo libero. Nel frattempo stavo per terminare gli studi. Io studiavo al liceo scientifico di Piazza Armerina, un paese accanto al mio, in Sicilia e dovevo scegliere quale università fare. La mia ambizione era quella di studiare non tanto informatica, io sono autodidatta sull'informatica, quanto piuttosto economia. Il mio sogno era entrare in Bocconi. I miei genitori non potevano permettersi di pagare l'università. La mia è una famiglia modesta, mia madre fa la casaringa, mio padre fa l'infermiere ed ho tre fratelli, Giuseppe, Elie e Davide. Quindi non avrebbero potuto permettersi la possibilità di mandarmi a studiare a Milano e per caso scoprì l'esistenza di un servizio. Si chiamava e si chiama ancora oggi Google AdSense. È un servizio semplicissimo. Avete un sito internet e volete monetizzarlo, volete guadagnarci, vi scrivete su Google AdSense, prendete un codice, lo mettete in pagina e da quel momento in poi Google per conto vostro vende della pubblicità. Questa pubblicità è legata ai contenuti del vostro sito internet. Se parlate di informatica troverete pubblicità di informatica, se parlate di motori probabilmente troverete della pubblicità sulle auto. Il primo mese incassai il doppio dello stipendio di mio padre. Qualcosa. I primi soldi che arrivarono investiti totalmente nella mia istruzione. Decisi di studiare liceo scientifico, mi spostai finalmente a vivere a Milano, era il mio sogno, dal piccolo paese alla grande città. Andavo all'università, andavo in Bocconi, con i miei amici seguivo le lezioni, studiavo a casa, con l'unica differenza che il weekend e le notti le passavo a lavorare al mio sito internet. Tutto il tempo che riuscivo a ritagliarmi al di là dello studio era dedicato al mio sito internet. L'anno 2008, quindi 2008-2009, furono gli anni diciamo nel quale il mio sito incominciò a diventare un qualcosa di importante per me. Era vitale per me che il sito funzionasse perché senza quello non avrei potuto permettermi di studiare. Troppe cose, diciamo, si accavallarono e purtroppo fui costretto a fermarmi. Scoprì di avere una malattia, si chiamava colito ulcerosa, fui ricoverato in ospedale un paio di mesi e fui costretto a bloccare tutto. Da una parte avevo la Bocconi che richiedeva una presenza costante, dall'altro dovevo cercare di fatturare, dovevo cercare di mandare avanti il mio sito internet e la mia impresa, tutto si era fermato. Il mio sito internet continuava ad essere letto, ma non da abbastanza persone da rendermi sereno. In ospedale vi ho un'idea, un'intuizione. Perché non trovare quello che gli italiani cercano sull'informatica, sui motori di ricerca? Perché devo essere io ad inventare le tracce da trattare sul mio sito internet? Sviluppai un sistema che esiste ancora oggi e si chiama sistema dei titoli. È una tecnologia proprietaria che inventai all'età di 18-19 anni ed è un sistema che analizza quello che voi cercate sui motori di ricerca e mi consente di vedere quali sono i problemi che gli italiani hanno sull'informatica. In questo modo io e i miei collaboratori riusciamo a dare la risposta ai vostri problemi. Qualsiasi problema che voi cercate sull'informatica, sui motori di ricerca, probabilmente finite su aranzulla.it. Aranzulla.it oggi è diventata un'impresa, a tutti gli effetti, ho superato le difficoltà iniziali che ho appunto avuto nella mia carriera di imprenditore. Oggi aranzulla.it è tra i 30 siti più visitati in Italia. Se prendete una classifica trovate Google, trovate Facebook, trovate YouTube, trovate una spilza di siti porno e poi trovate anche aranzulla.it. Soprattutto un altro dato interessante è che ogni giorno 500.000 italiani consultano il mio sito per trovare una soluzione. Un numero impressionante. Ma quello che mi emoziona di più non sono tanti i numeri, non sono tanto le cifre, i fatturati oggi. E quanto piuttosto l'entusiasmo delle persone che mi fermano per strada per ringraziarmi che appunto hanno risolto i loro problemi con l'informatica. Sono anche le lettere, le mail che ricevo dalle persone. Io ricevo ancora spesso delle lettere da persone anziane. L'ho ricevuta circa un mese fa di un signore di 85 anni che mi ringraziava perché seguendo una mia guida era riuscito a installare Skype sul proprio computer e quindi a riuscire a vedere i nipotini che si trovavano dall'altra parte dell'Italia. Queste sono grandi soddisfazioni al di là delle cifre, dei numeri, dei fatturati che si possono ottenere. Peraltro lo stesso signore in questa lettera aveva allegato 10 euro dicendomi guarda non smettere, questo è quello che possa. L'importante è che non smetti perché altrimenti non so come sistemare il mio computer in caso di problemi. Ho cercato, ho cercato di oggi un po' di riassumere la mia storia un po' per tappe, le tappe più importanti, soprattutto per dare uno stimolo ai miei coetani. Io vedo moltissime persone della mia età che appunto sono senza lavoro che non sanno cosa fare. Internet fornisce una grandissima opportunità per trasformare quelle che sono le proprie passioni in un lavoro, quindi fornisce delle opportunità anche a quelle persone che magari sono in cerca di un lavoro e che magari possono decidere di crearlo appunto da zero, come ho fatto un po' io partendo da un piccolo paese della Sicilia essendo diventato quello che sono oggi. Grazie per l'attenzione.